Il maestro Regianini ha trattato la vita dell'uomo, quindi ha delle opere molto forti che parlano della vita, quindi ha dipinto dei teschi, delle ossa, ma però in un angolino appare sempre un pulcino. Il pulcino è la vita e i teschi è la fine vita. È una mostra sicuramente da visitare, in particolare a Pieve di Cadore, che tra l'altro è ospitata nel Museo dell'Occhiale, che è vicino alla casa di Tiziano, dove è esposta una mostra importante che proviene dagli uffizi, la Madonna della Misericordia e poi abbiamo il Palazzo della Magnifica. È importante, visitate questa mostra.